Il grande nemico mio e di mia figlia è proprio il telefono. Io credo, come diceva Darwin, che bisogna comunque convivere con l'evoluzione, non bisogna rimanere fermi a quelle che erano le nostre dinamiche. Però è in dubbio che il telefono ha sostituito spesso i genitori, ha sostituito spesso un libro, ma anche una conversazione con un'amica che spesso non avviene perché c'è questo isolamento di cui sappiamo tutto, quindi dico solo cose banali. Però bisogna cercare di infilarsi il più possibile tra un TikTok e l'altro, questo è evidente. Io per esempio non ho mai utilizzato, come fanno la maggior parte dei genitori, ciao, ci 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 ci, quelle vocine stupide che si fanno, non si sa perché, perché i bambini devono sentire dei suoni. Io l'ho sempre trattata da grande, certe volte le davo pure del lei e le cambiavo pure il nome, anche nomi maschili, perché era una bella confusione iniziale, uno shaker. E quindi l'ho sempre trattata, certo da bambina, ma senza però cedere a quei buffetti che la rendono magari meno brillante di quello che invece è diventata oggi a 13 anni, dove è già più grande di me, anche d'altezza.